buongiorno a tutti allora video della domenica pomeriggio poi ne farò uno anche nella notte nella sera naturalmente dopo pranzo perché tra poco inizierò il turno per interlive quindi discesa libera maschile perché come vedete ho messo la felpettina da brr che freddo che fa col cappuccio naturalmente perché dobbiamo parlare come piove ho promesso perché ho invertito le discese ho fatto prima quella del 28 dicembre e adesso faccio quella del 27 dicembre del 2019 discesa libera da bormio quindi grande libidine discesa difficilissima discesa che gli atleti arrivano giù che a volte non riescono neanche a frenare vanno direttamente contro i cartelloni disintegrati perché veramente è molto molto tosta forse solo a wangen che dura due minuti e passa si distruggono ancora di più ma è veramente una discesa molto molto dura che dopo il quarto intermedio vanno giù proprio per per inerzia cercando di stare in piedi chi è fisicamente prestante magari fa meglio ma bando alle cialte vediamo il primo a scendere chi è è masfrance masfrance vediamo quale sarà il suo tempo che sarà anche quello il primo tempo da battere il suo tempo è 1 51 e 55 rispetto a quella di cui vi ho parlato l'altro giorno è un tempo leggermente più basso il secondo a scendere raicol che si prende a sua volta al primo posto con 32 centesimi di vantaggio mi sa che come al solito ogni discesa può essere migliore della precedente con il pettorale 5 scende maier incredibile i primi 5 4 sono sciatori astriaci lui è il quinto sciatore e fa una gara perfettissima con un vantaggio che definirei mica da ridere sul suo compagno di squadra raicolt ben un secondo e 25 centesimi questa è una gara che sarà dura da battere un tempo difficilissimo da battere vedremo se qualcuno ci riuscirà magari magari non diciamo niente proseguiamo perché il racconto deve essere lineare come io non so nulla con il pettorale 9 scende krishmaier incredibile perché veramente qui ci vuole essere dei superman perché praticamente a 110 chilometri all'ora gli si è staccato lo sci sinistro lui su un solo sci a 110 chilometri all'ora è riuscito a stare in piedi andare avanti mettersi alla topista tirare giù temo qualche madondone perché stava facendo una gran gara aveva un distacco minimo nei primi due intermedi era intorno ai 20 20 centesimi più o meno 20 30 centesimi quindi si poteva giocare tranquillamente il podio e gli è saltato letteralmente lo sci perché stava il terreno e quello che è quindi se non non è agganciato e lo aggancia anche bene ma basta un piccolo contraccolpo per salvarti dal farti male lo sci sci lo sci sgancia a volte ti va bene proprio che si sganci perché sennò magari tipo far torsione ciao ciao ginocchio però se si sgancia quando sei in corsa per un podio capisci che ti girano leggermente i testi comunque tutto bene quel che finisce bene ahimè butta via la gara con il pettorale 11 scende il nostro paris vediamo se gli riesce il miracolo di stare davanti a un maier che è stato bravissimo e eccezionale ma lui lo è ancora di più perché dominic paris in questo momento è al top del top del top e quindi è primo con ben 42 centesimi di vantaggio e adesso vediamo chi riesce a battere lui perché adesso si fa dura per gli altri non per noi che stiamo giustamente godendo perché abbiamo un nostro almeno uno davanti dopo la discesa dei primi 20 atleti questa è la classifica dei primi dieci naturalmente primo paris secondo foitz a 39 centesimi che si è inserito davanti a maier che ha 42 centesimi poi c'è il solco perché al quarto posto c'è childe a un secondo e 0 3 al quinto belè a 1 secondo e 23 al sesto ganonc a 1 e 48 al settimo dressen a 1 e 52 all'ottavo claret a 1 e 55 al nono raicolt a 1 e 67 al decimo teo a 1 e 98 con il pettorale 23 scende il nostro matteo marsaglia speriamo riesca a fare una buona gara certo non certo a livello del paris perché quello non è extraterrestre però purtroppo è solo ventunesimo con ben 3 secondi e 45 di distacco sarà dura che riuscirà a rimanere nei 30 troppo troppo troppi secondi con il pettorale 26 scende il nostro petter fil speriamo riesca a fare almeno meglio di marsaglia fil purtroppo finisce a 3 secondi e 10 meglio di marsaglia che era 3 46 però è ventunesimo con un ritardo che temo sia qualche decimino di troppo forse se riusciva a stare sotto i 3 secondi magari nei 30 poteva starci quasi sicuramente a 3 10 è lì purtroppo i suoi 37 anni si fanno sentire con il pettorale 27 scende il nostro emanuele buzzi vediamo lui cosa riuscirà a fare nulla di eccezionale meglio dei compagni ma è ventunesimo a 3 secondi esatti di distacco da paris con il pettorale 32 scende il nostro mattia cassè non male non male lui si non male perché è quattordicesimo con un ritardo di 2 secondi e 19 sicuramente dovrebbe rimanere almeno nei 20 almeno nei 20 magari anche qualche posizione sotto al ventesimo posto sicuramente è il migliore degli umani tra i compagni di squadra di paris che è l'estraterrestre alla fine di questa gara da libidile questa è la classifica finale primo paris secondo foils terzo maier quarto kilde quinto musaton che si inserisce con un pettorale superiore al trentesimo sesto belè settimo roger che è sceso addirittura dopo musaton ed è riuscito ad inserirsi nei 10 con il settimo posto ottavo ganon nono dressen e decimo claret per quanto riguarda gli italiani ahimè gli unici due che sono riusciti a rimanere nei 30 sono cassa al diciottesimo posto e buzzi al ventinovesimo detto questo io vi saluto vi ringrazio prossimamente proseguirò con le altre gare di dicembre così le concludiamo poi farò un bel biglietto di recupero di tutte le gare che si sono svolte da ottobre fino a oggi in modo da farvi un riepilogo generale poi ripartiremo con gennaio perché già questo weekend c'erano gare detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao